Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, si è impegnato a discutere tutte le proposte di risoluzione dei vari gruppi consigliari. Pertanto, se non dovessero aversi risposte positive, qui terminerà il percorso istituzionale per far valere con forza le ragioni dei cittadini. Lo ha affermato il sindaco di Sulmona, Peppino Ranelli, che intende passare alle maniere forti se dopo il Consiglio regionale di giovedì 9 aprile non verrà fatta marcia indietro sulla chiusura del punto nascita. Il primo cittadino non esclude di riconsegnare la fascia da sindaco e minaccia nuovamente le dimissioni. Se dopo il 9 aprile, sindaco, le cose non dovessero cambiare, cosa accadrà? Mi risolverò in quella sede di far valere le mie ragioni come cittadino di Sulmona. Cosa significa? Significa che noi ancora con più forza cercheremo di porre una questione, cioè che i territori del centro Abruzzo, delle aree interne, non possono essere discriminati a vantaggio della costa. Si è già verificato in passato, non vogliamo che questo risucceda in futuro. Iniziative forti che vuol dire? Riconsegnare la fascia, qualcosa del genere? Può significare tutto, anche quello che è il fatto che Peppino Ranalli non sia più sindaco della città di Sulmona. Il primo cittadino di Sulmona nel fare il punto della situazione ritiene giusta la battaglia perché la chiusura del punto nascita, dice, andrebbe a vanificare il lavoro intrapreso in un anno e mezzo che ha permesso di sbloccare i lavori del nuovo ospedale. Le soluzioni ci sono, ma se non saranno adottate, Peppino Ranalli si dichiara preoccupato per il futuro del nosocomio del capologo Peligno. Riteniamo che oggi la privazione di questo punto nascita, motivato dal rientro del commissariamento della regione Abruzzo, sia ingiustificato ed ingiustificabile e vada necessariamente trovata una soluzione. Soluzione che oggi non si vuole trovare. Vedo all'orizzonte solo degli ambulatori per quanto riguarda ostetricia, vedo la perdita di posti letto e allora la domanda che mi pongo è che fine farà il nostro ospedale di Sulmona. In merito alle forze politiche che stanno attuando l'occupazione dell'aula consigliare del comune, il sindaco Ranalli afferma. Bisogna capire perché ci sono calati i numeri dei parti, di chi è stata la responsabilità. Invece vedo oggi molte persone impegnate con una protesta forte, con quella dell'occupazione, che i loro rappresentanti sono stati impegnati in prima persona su questo problema e nulla è stato fatto negli ultimi cinque anni. Siamo nel corso delle festività pasquali, io ritengo che in questi giorni debbano essere abbassati i toni. Se vogliamo dare un segnale di unità, invito tutti i consiglieri comunali, tutte le forze politiche a essere presenti insieme al sindaco alla processione del venerdì santo, senza disturbare o inquietare quella che è una profonda riflessione che oggi viviamo, che è quella della speranza e quella della salvezza.